Il gruppo della Guardia di Finanza di Giuliano in campagna ha tratto in arresto a Marano di Napoli tre spacciatori sottoponendo a sequestro oltre 22 kg tra hashish e marijuana nonché 11.000 euro in contanti. A portare a termine le operazioni sono stati finanziari della compagnia di Pozzuoli coagliuati da un'unità cinofila della compagnia di Capodichino che insospettiti da uno strano via vai di persone hanno individuato un'abitazione nella quale avveniva lo smercio dello stupefacente confezionato in singole dosi attraverso l'utilizzo di macchine per il sottovuoto e termosigillanti. Intuendo l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire all'interno di una fossa profonda circa due metri e scavata nel terreno adiacente all'abitazione oltre a 10 kg di hashish suddivisi in 90 panetti e circa 12 kg di marijuana suddivisi in 29 buste celofanate e 680 dosi. Se immessa nel mercato la droga avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 250 mila euro. L'intervento rientra nel quadro della costante attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio svolta dalle fiamme gialle partenopee al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa come il traffico di sostanze stupefacenti.